Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, oggi siamo qua per inserire il macchie mc202 Comparate un costo di modellismo, mi piace Molto anche Quindi vorrei dire, guarda l'insieme a un primis C'è il simbolo classico, guarda ci tenero per il fascio Contro questo ragazzi mi buttano giù il canale per colpa di storia, ve lo dico Le ali sono fatte con questa di medica che a me piace Forse questo lato è un po' imprecisa, ma questo lato è molto bello Questa è la parte migliore da cui guardate il modellino La lega è la solida, poi sono i mediatrici Qua in me c'è la coda con il coso Quindi io vi saluto ragazzi, vi auguro una buona immacolata e ciao